E a proposito di celebrazioni importanti, la prossima settimana, come dicevamo in apertura, ci sarà un'altra ricorrenza molto particolare che ci sta molto a cuore, vero Paola? Esattamente Tony, infatti per questa notizia vogliamo andare subito sul mattino perché è comparsa questa mattina alle 8 sul sito del giornale della Campania un'intervista alla sorella di Don Peppe Diana, di cui quest'anno ricorrono i 30 anni dalla sua uccisione. E nell'intervista appunto alla sorella Marisa che dice mio fratello faro del nostro popolo, ecco vediamo riportata nelle pagine interne del mattino. E la sorella Marisa che all'epoca, quel 19 marzo di 30 anni fa del 1994, aveva 28 anni quando il fratello, lo ricordiamo, Don Giuseppe Diana, per tutti Don Peppe Diana venne massacrato all'interno della sua chiesa a Casal di Principe. Trent'anni dopo Marisa è ancora lì nel comune di origine della sua famiglia, fa l'insegnante, accudisce appunto la sua famiglia. Al mattino Marisa Diana racconta gli anni più bui, quelli immediatamente successivi all'omicidio del fratello quando al dolore per l'esecuzione si aggiungeva il dolore nel contrastare l'azione della macchina del fango. Dobbiamo continuare a coltivare la speranza, ha detto Marisa Diana, nel segno del martirio riservato a mio fratello. Un sacerdote, un uomo racconta che annunciava i valori e la verità della fede nella sua semplicità. Un'intervista che vi consiglio di leggere appunto sul mattino di oggi. Grazie Paola, io aggiungo che a Casal di Principe stanno giungendo già in migliaia le persone che celebreranno questo trentennale per omaggiare uno dei preti antimafia che appunto ha dato la vita per il suo popolo. A questo proposito abbiamo in collegamento con noi Tina Borzacchiello, presidente della cooperativa sociale Davar. e Tina è qui con noi perché la sua cooperativa nasce nella parrocchia di Don Peppe Diana, nasce da questa esperienza, da questa testimonianza fortissima di Don Peppe Diana. Quindi noi la salutiamo, tra l'altro è una cara amica di Padre Pio TV. Buongiorno Tina, ben ritrovata. Buongiorno, buongiorno a tutti. Stamattina tu sei oltre che presidente della cooperativa sociale Davar anche la founder, la fondatrice di Dulcis in Fundo, quell'azienda che è nata per produrre cioccolato in maniera sostenibile con tanti ragazzi speciali, ma oggi ti vogliamo strappare una testimonianza, un ricordo di Don Peppe Diana in quella parrocchia, quella di San Nicola a Casal di Principe dove è nato tutto dopo la sua morte. Sì, infatti noi siamo nati come la cooperativa 4-5 anni dopo la sua morte. Quest'anno ricorre il trentennale di Don Peppe Diana, quindi per il 19 marzo diciamo che ci sarà il grande fermento, ci saranno più di 10.000 persone che verranno a Casal di Principe. Che cosa ha determinato la morte di questo sacerdote, il sacrificio di questo sacerdote? Ha determinato il cambiamento. Praticamente le terre di Camorra, Casal di Principe è famoso per questo, sono diventate le terre di Don Peppe Diana. Le terre di riscatto, dove le persone che sono state umiliate per tanti anni hanno ritrovato la loro personalità, quello che era un abitante di Casal di Principe e non più il casalese visto come casalese uguale camorrista. Se dobbiamo parlare di Don Peppe Diana, dobbiamo parlare del documento. Che cosa ha determinato tutto quello che è successo? Il documento nel 1991, fuori alle chiese di Casal di Principe, non solo nella parrocchia di Don Peppe Diana, Don Peppe insieme ad altri sacerdoti hanno scritto il documento. Il documento è stato dato a Letone nel giorno di Natale del 1991, dai sacerdoti, come ho detto, di Casal di Principe insieme ai giovani, dove si parlava della camorra, di che cosa era la camorra e perché i giovani non dovevano seguire queste orme. Quindi, evidentemente, tutto questo è stato quello che ha determinato poi Facilio e Morissi, che era ora di finirla, che questo sacerdote stava andando troppo oltre. Il sacrificio di questo sacerdote a Casal di Principe è stato quello che ha salvato il popolo casalese. Noi sappiamo anche che la camorra si può sempre riorganizzare ed è proprio per questo che da 30 anni, soprattutto il terzo settore, racconta ogni giorni agli italiani che vengono da noi nei beni confiscati parlano di questo sacerdote, del cambiamento che c'è stato. Perché secondo me è solo così, la gente non deve dimenticare, altrimenti la camorra la fa un'altra volta da padroni. Grazie Tina. Abbiamo anche qualche foto di Don Peppe, presbitero, attivista e scout italiano, assassinato dalla camorra per il suo impegno antimafia, come appunto ci raccontavi tu, medaglia d'oro al valore civile. Dicevamo Casal di Principe già da qualche giorno è in fermento, perché gli eventi sono tanti. Volevo chiederti un tuo ricordo personale, se hai un episodio, un'immagine, una frase che ti è rimasta particolarmente impressa e poi è bello che questo abbia generato, anche grazie al tuo lavoro, alla tua testimonianza, tanta splendida ricchezza umana oggi a Casal di Principe, perché poi ecco, all'omicidio di Don Peppe è seguita la vostra reazione, oggi Casal di Principe è una città diversa. Il ricordo di Don Peppe di Anno, perché io Don Peppe di Anno l'ho conosciuto poco tempo prima della sua morte, non essendo di Casal di Principe, io sono sposata a Casal di Principe, quindi non sono stata una sua amica, anche se Don Peppe era amico dei giovani, insomma era un rivoluzionario, una persona per bene, io personalmente non ne ho, ma ti posso assicurare che tutti i giorni ormai ascolto e racconto la storia di Don Peppe di Anno tramite i suoi amici e che parlano di lui ancora con tanto entusiasmo, quindi questo si può dire insomma che era una persona per bene, altrimenti non sarebbe durato tutto questo tempo e non avrebbe lasciato di essere così. Grazie, grazie Tina, allora noi ti auguriamo buon lavoro per i tuoi bellissimi progetti che stai realizzando a Casal di Principe, anche se ci sei arrivata per amore, però ecco questo amore si sta generando tante altre forme di amore e ringraziamo idealmente Don Peppe Diana per il suo straordinario esempio e ci auguriamo che sulla scia del suo esempio possano continuare a nascere tante belle realtà a Casal di Principe. Quindi un grande abbraccio da tutta Padre Pio TV e ci vediamo prestissimo. Grazie, vi aspetto. Buon proseguimento di giornata a te. Noi adesso come di consueto dovremmo esserci più o meno con i tempi. Ci spostiamo nell'orto del convento di Padre Pio con Fra Rinaldo e vediamo che cosa ci riserva questa settimana.